Ufficiale, Mourinho esonerato non è più l'allenatore della Roma. La decisione in poche ore da parte dei Fritkin, mentre serpeggiava invece aria di conferma. Sembra che sarà Daniele De Rossi, ex bandiera della Roma, il sostituto, il traghettatore per il finale di stagione. Qualche scetticismo nei suoi confronti, ma parliamo di Mourinho. Secondo Calcio e Finanza era a bilancio il costo del comparto allenatore, quindi Mourinho più tutto lo staff, per circa 19 milioni nel bilancio della stagione 21-22, quindi quella di inizio dell'esperienza Mourinho, coronata forse anche dai bonus per la vittoria della Conference League. Mentre nella stagione scorsa, 22-23, stava a bilancio per circa 18 milioni, quindi probabilmente la Roma dovrà corrispondere, a seguito di questo esonero, a Mourinho altri 9 milioni circa, che in realtà sono quelli che gli avrebbe dovuto dare, comunque, che avrebbe dovuto spendere, comunque, per tenerlo fino alla scadenza del 30 giugno 2024. Quindi in realtà la spesa che si aggiunge sarà solo quella per De Rossi e il suo staff. Ma parlando del rendimento, i tifosi della Roma sono quasi arrabbiati, in alcuni casi togliamo il quasi, nei confronti dei Fritgen e della dirigenza per questa decisione. Mourinho è un allenatore divisivo, ma ci sono alcuni numeri che parlano chiaro. Infatti Mourinho chiude la sua esperienza alla Roma, iniziata nel luglio 2021, con 138 panchine, con un punteggio medio di 1,7 punti a partita. Che però, in questa stagione, si era abbassato a 1,61, nonostante ben 2,17 punti a partita nelle sei gare di Europa League, senza neanche il primo posto nel girone. In sostanza, in 20 gare di Serie A, 8 vittorie, 5 pareggi, 7 sconfitte, con 29 punti di conseguenza, che sono 1,45 a gara. Non ho posto, troppo poco. Fonseca, invece, che nel frattempo è passato a Lille e alla seconda stagione e sta avendo dei risultati interessanti con 1,84 punti a partita, nei due anni alla Roma aveva avuto un punteggio di 1,76, quindi 0,06 più di Mourinho in totale e qualcosa in più ancora rispetto a questa stagione. Ma non solo, parlando di piazzamenti, Fonseca riuscì a strappare un quinto posto alla prima stagione e un settimo posto alla seconda. E proprio in virtù di quel settimo posto, ma in ragione della riforma UEFA che introduceva la Conference League, Mourinho poteva sedersi in panchina per disputare la prima storica Conference League, vinta, poi conquista di conseguenza della qualificazione all'Europa League, finale persa, ma piazzamenti, sesto posto, sesto posto e adesso nono. Quindi Fonseca al primo anno ha fatto meglio in termini di piazzamenti rispetto a Mourinho. E ha fatto meglio anche per miglior difesa, maggior numero di gol fatti, maggior differenza di reti di conseguenza e più punti. Fonseca ha fatto fare alla Roma anche 70 punti al primo anno, 62 al secondo, Mourinho poi ha fatto 63-63, ma con un rendimento non sempre da buttare via quello di Fonseca. Non si tratta di essere vedove di Paolo Fonseca, si tratta di essere oggettivi. I numeri, se di numeri si deve parlare, dicono che Fonseca non era tanto peggio di Mourinho e Mourinho non è stato tanto meglio di Fonseca, al di là del trofeo che indubbiamente non va in secondo piano. Questo vuole tralasciare ogni discorso sulla qualità del gioco, che può essere un discorso soggettivo, sulle prestazioni, visto che anche i Friedkin probabilmente hanno cacciato Mourinho più per l'eliminazione in Coppa Italia, la sconfitta col Milan, il posizionamento in classifica e quindi il rendimento, diciamo, numerico che non per le prestazioni. Infatti si parlava di esonero di Mourinho già mesi fa, se avesse perso col Cagliari. Ma c'è anche da dire, per quanto riguarda quindi la storia finita di Mourinho con la Roma, quanto si è speso sul mercato. È vero che con Fonseca si andò a spendere al netto circa 30 milioni, ovvero appena insediatosi 118 milioni di spesa con 107 milioni di incasso, fonte Transfermarkt, ma era l'estate 2019, poi 72 di spesa con 49 di incasso, sono circa 30 milioni netti di investimento per Fonseca. Poi arriva Mourinho, si spendono ancora 130-131 milioni per Mourinho, Ebraham, Kumbulla, Shokurodov, Vigna, Ibagnes, Rui Patricio, Reynolds, alcuni dei flop, alcuni che poi non vengono assolutamente tenuti, ma tanti investimenti andando però ad incassare solo 17 milioni. Poi l'estate 2022 se ne spendono solo 9 incassandone 74, l'estate 2023 se ne spendono solo 10 incassandone altri 74, per cui in realtà abbiamo un saldo negativo degli investimenti dei Friedkin per Mourinho, ma poteva già beneficiare di tantissimi investimenti precedenti. Si è trattato anche di fare operazioni di risanamento del bilancio. C'erano i paletti del fair play finanziario, ma non dobbiamo escludere dal discorso i parametri zero. Per esempio, Awar gratuito, Ndicca gratuito, Alzmun anche in prestito, Lukaku per il momento solo in prestito, o anche Dybal a parametro zero, Belotti a parametro zero, Matic, Wijnaldum, comunque giocatori dalla grande esperienza, grande qualità e che non sono certamente scarsi. Insomma, per Mourinho e Friedkin hanno fatto tanto, Mourinho per la Roma ha provato a fare tanto, gli si riconoscono sicuramente dei meriti, ma non ha fatto abbastanza e forse questo esonero può essere un ancora di salvezza soprattutto per il futuro della Roma in termini di progetto, prestazioni, gioco, qualità. E d'altra parte i Friedkin non guardano in faccia a nessuno, è un discorso prettamente imprenditoriale evidentemente e quindi facendo due conti non si sono più trovati e hanno detto meglio imprimere un cambiamento immediato come hanno scritto nel comunicato ufficiale. Scetticismo per De Rossi, come dicevo, per i suoi trascorsi come allenatore, ma bisogna vederlo all'opera. Potrebbe anche non riuscire a far giocare meglio questa Roma, sarebbe poco colpa sua onestamente vista la situazione, però chissà, magari riesce anche a dare gioco, prestazioni e a convincere oltre che a vincere. Sicuramente per i Friedkin sarà esclusivamente un discorso di classifica, è una Roma costretta ad entrare nelle coppe europee come tante altre squadre per discorsi di bilancio, per discorsi di ricavi, ma bisogna anche dire che Mourinho ha fallito in un obiettivo che era necessario, visto anche tutto quello che hanno fatto, che ha fatto la dirigenza in termini di allestimento della squadra, ovvero la qualificazione alla Champions League, che sarebbe arrivata in caso di vittoria dell'Europa League, ma è troppo poco. Fare sesti e puntare alla Champions vincendo l'Europa League non è da Roma, o quantomeno non è da Roma di Mourinho. Insomma, qualcosa di più sicuramente si poteva fare e quindi si poteva pretendere. Questi alcuni dei dati, forse quelli principali, e adesso la storia della Roma continua, quella di Mourinho con il suo Arrivederci pure, ma magari da un'altra parte.